Con il direttore Antonio Bucci, insomma direttore se non soffrite non vi piace? Guarda, adesso possiamo sorridere ma in panchina abbiamo sofferto tantissimo, io non lo so se noi riusciamo a complicarci da solo la vita, insomma siamo partiti andando in vantaggio forse non lo so al secondo o terzo minuto, poi ci sono capitate 3-4 palle e gol, non siamo riusciti a raddoppiare e poi ci siamo complicati la vita, insomma voglio dire, sembra che ci facciamo tutti da solo e anche loro, poi è una squadra che faccia onore a questi ragazzi dell'Angiano perché hanno combattuto fino alla fine anche in dieci, però dopo si è complicata la vita perché siamo andati anche in svantaggio e non è facile recuperare perché poi si è creata anche un po' di confusione nella squadra perché pur di raggiungere il pareggio e poi la vittoria forse non siamo stati lucidi come al primo tempo e questo noi non dobbiamo farlo, noi dobbiamo stare tranquilli e giocare, insomma voglio dire. Grazie